Tito è arrivato il momento di farci il primo pezzo, presentacelo e fatecelo ascoltare. Ok, questo brano si intitola Sushi del mio cuore avvelenato, sul disco la sentirete cattivissima e veloce, qui ve la suoniamo come se Mina fosse precipitata dentro un film di Tarantino, tutta un po' scura e rallentata. Va bene, allora, live signor Palomar a Radio X. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. A te che hai perso ogni vergogna e continui a spacciare e puci A te che dici ci riprenderemo, riprendi te stesso e guardati A te che piangi si è scoperto, ma ridi quando è buio anche per te Vorrei capire ma capir non posso, è tutto chiaro Mangia questo sushi del mio cuore a velenare È freddo, come freddo Quello che ti arriva da sovele noto Come freddo resto io per costruire sopra il tuo disastro A te che menti quando dici niente da fare perché niente è quello che vuoi fare Per te che prendi i bimbi in grembo in una chiesa e bruci l'innocenza Immagino che Cristo intendesse altro dicendo ai bambini avvicinatevi a me Per te che ogni caso, ogni giardino, l'aria che respiri non ti ha mai riguardato Mangia questo sushi del mio cuore a velenare È freddo, come freddo Quello che ti arriva da sovele noto Come freddo resto io per costruire sopra il tuo disastro Nascetevi sognare, osare e sognare Strappare via l'ortica, osare immaginare Spazzare, spazzare, fiume cieche Riprendere, piantare, osare costruire Riprendere un sogno a me Riprendere, piantare, 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 piantare Editare, piantare, piantare, piantare Che ti arriva a tassa delenato Come fretta a testo il mar Per costruire soprattutto il disastro Tutti colpevoli, nessun colpevole Tutti corrotti, nessun corrotto Tutti i drogati, nessun drogato E tutti i complici, nessuno paga E allora mancia, in ginocchiati e mancia In ginocchiati, in ginocchiati e mancia Eccoli qua il signor Palomar Quintet Oggi perché siete in versione Quintetto A Radio X Molto bella questa versione che ci avete fatto di questo pezzo Ricordiamo il titolo cristiano Sushi del mio cuore avvelenato Perché la vendetta è un piatto che va servito freddo Quindi ci siamo diciamo omologati Alle tendenze della cucina internazionale del momento Con un po' di veleno dentro però Con un po' di veleno dentro